114 mi piaceva questa musichetta iniziale l'almanacco del giorno dopo quando ero bambino la vedevo sempre Rai 1 la sera, il tardo pomeriggio cerchiamo magari in questi 50 secondi che tutte le sere abbiamo in attesa di trovare ogni sera anche uno stacco musicale allora, 830 ci siamo buonasera a tutti diario di bordo del giorno 59 ogni giorno arrivo dopo pranzo con la paura di non riuscire a mettere insieme questa diretta nel senso che come ho spiegato più volte è comunque un lavoro cercare notizie, leggerne, verificare l'attendibilità cercare di farsi una scaletta e cercare di arrivare a proporvi di darvi delle informazioni nel modo più semplice e diretto possibile senza bisogno che quindi abbiate bisogno di altri per farvi spiegare e cercando oltre a fornirvi informazioni importanti quelle che volete sapere per cercare di sdrammatizzare un po' e lietare mettere in mezzo anche altre notizie più leggere anche oggi è successo questo ma anche oggi arriviamo a quest'ora la diretta è pronta e quindi possiamo partire l'indagine di ieri quella che mi ha portato a specifico qualcuno mi ha detto hai lasciato questa cosa qua e ha fatto riferimenti errati sbagliati quindi prima che altri lo facciano purtroppo non so se lo stress non so se le attenzioni non so se altre cose o una leggera febbre qua che sembra che abbia il baffetto l'ho preciso perché di questi tempi bisogna purtroppo precisare tutti c'è sempre la famosa mosca che a differenza dell'ape che va a cercare il fiore in mezzo a tanta altra roba la mosca che in mezzo a tanti fiori va a cercare invece un'altra cosa dicevo che questa indagine fatta ieri che mi ha portato questo look a questa sbarbatura ci ha portato a livello nazionale su radio stampa e tv mi hanno chiamato amici da mezzo Italia che mi hanno trovato sui siti dei loro giornali dall'unione sarda alla repubblica il messaggero l'espresso il secolo d'Italia il fatto quotidiano la stampa oggi su la 7 hanno parlato meno male bene di noi su tg con 24 e così via ripeto però ancora una volta il senso della ispezione e dell'indagine in incognita non ho bisogno in questo momento di andarmi a prendere degli altri mal di pancia e non ho bisogno di ribalte televisive non mi interessa mi interessa cercare di amministrare al meglio questa città di darvi un servizio di riuscire assieme a voi a venire fuori da questa cosa nel più breve tempo possibile e nel migliore dei modi possibili sono però arrivate veramente tante segnalazioni e nell'incontro fatto lo scorso fine settimana anche con i consiglieri comunali di minoranza sono emerse anche da parte loro delle segnalazioni per cui ho deciso come ho fatto tantissime altre volte in questo mio mandato di rendermi conto di persona di quello che stava succedendo vi ho detto anche ieri che chiedere ad altri di farlo siamo in momenti già dove ognuno ha delle cose da fare che si sono giunti a lavori alle cose che si facevano prima e per cui creare ulteriore peso la struttura mi spiaceva persino nello stesso tempo il piacere di farlo di persona non lo nascondo sono fatto così in sostanza le numerose segnalazioni ci parlavano di questi buoni spesa spesi non correttamente in modo improprio soprattutto con la possibilità che qualcuno li utilizzasse per comprare degli alcolici ricordo che io non ho solo comprato delle bottiglie di vino particolare passito che è ancora diverso da un vino normale perché qualcuno è anche arrivato a dire che male c'è il vino fa parte dell'alimentazione io sono arrivato anche a comprare dei liquori perché mi hanno segnalato che qualcuno è arrivato alla cassa anche col whisky o con delle altre cose queste abbiate pazienza non sono cose che servono in questo momento o perlomeno che si possono comprare con i buoni spesa mentre cito i buoni spesa prima di continuare e finire questo argomento vi faccio presente che con domani noi avremo consegnato a 1200 nuclei familiari i buoni spesa ed è stata una corsa contro il tempo con la struttura che ha lavorato di sabato e di domenica ho già avuto modo di fare a tutti loro dei plausi dei complimenti li rifaccio anche questa sera e nonostante si sia perso tantissimo tempo da andare indietro a delle segnalazioni rilevatesi poi infondate di vicini gelosi quindi so che una certa persona ha preso 100 euro in più di me 50 euro in più di me o io non ho preso addirittura nulla segnalo che quella persona non meritava perché aveva delle altre entrate e compagnia bella ebbene la quasi totalità della quasi perché poi invece ci sono state anche delle cose però la quasi totalità delle segnalazioni ci hanno fatto perdere tempo abbiamo fatto delle verifiche e si sono risolte in una balla di fumo come si dice ci sono però anche quattro casi di persone dove addirittura siamo andati a casa a riprenderli buoni perché hanno dichiarato cose che evidentemente non li avrebbero diverse da quelle che erano e quindi non avevano diritto non avevano titolo a ricevere quei buoni altri nei giorni di sospensione fra la prima regozione e la seconda nel momento in cui abbiamo riaperto il bando e abbiamo verificato le domande si sono verificate da già indagini che abbiamo fatto e neanche i buoni gli sono stati dati quindi c'è stata una mola di lavoro perché in mezzo a tanti che avevano davvero bisogno ed è giusto che abbiano ricevuto i buoni qualcuno si è inserito lo diciamo sempre c'è gente che ruba c'è gente che fa tante cose già nella normalità non c'è da immaginare che uno che ha questa mentalità in questi momenti di difficoltà cambi questi 1200 nuclei familiari che abbiamo aiutato che arriveremo a 1200 domani si aggiungono poi ai 1000 che ha in carico l'iniziativa dona la spesa quindi 2200 nuclei familiari in questa città chi aveva già delle problematiche prima chi invece ha avuto delle problematiche oggi perché è andato in difficoltà a causa di quello che sta succedendo quindi dicevamo però di fronte a 1200 nuclei familiari che prendono buono che si mettono in giro per andare a comprare visto che spendiamo dei soldi che tra l'altro non sono nostri nel caso di donna la spesa degli astigiani nel caso invece dei fondi statali sono 404.000 euro che ci sono arrivati dallo Stato lo ripeto perché qualcuno dice tu non lo dici abbastanza no su questo caso in questa situazione grazie al governo per questo aiuto adesso è finito speriamo che ci diano altri soldi perché se no noi nelle prossime settimane non sapremo come dare delle risposte ma ad oggi grazie per questi 404.000 euro e avevamo il dovere morale di verificare anche come venivano spesi per cui dopo le ennesime segnalazioni qualcuno addirittura di aver visto acquistare un elettrodomestico la dice tutta abbiamo fatto questa verifica una verifica che ha portato ai dati che vi ho detto ieri questa mattina come vi ho detto è già partita una lettera a tutte le strutture che è firmata dal vice sindaco Marcello Coppo con il suo dirigente Marcello alla delega al commercio quindi è giusto che la facesse lui con il suo dirigente dove andiamo a ricordare di nuovo a tutti questi negozianti che questi boni si devono utilizzare per l'acquisto di beni di prima necessità ed in particolare che è escluso l'acquisto di bevande alcoliche poi abbiamo anche ricordato a tutti loro che sarebbe più opportuno perché nella verifica che ho fatto ho anche notato che anche quelli che si sono comportati bene però gli ho suggerito magari mettete un cartello fate alcune cose che aiutino ulteriormente e quindi abbiamo segnalato ad alcune da tutte le attività di esporre fuori dalla propria attività un cartello informativo per coloro che si recano a comprare dove vengono illustrate le modalità di accettazione dei buoni quindi accettazione dei buoni che non si dà il resto magari che quindi il buono deve essere speso e tutte le cose che uno non arrivi alla cassa si trova poi la sorpresa alla cassa una volta che ha il carrello pieno deve andarselo a svuotare oltre a questa lettera fatta oggi domani però partirà una telefonata uno per uno perché ho chiesto che si sentissero i responsabili dei vari punti per avere delle non delle risposte ma per avere il contatto diretto e dirci se la lettera poteva andare persa ci siamo sentiti non ci siamo potuti vedere magari in faccia ma ci siamo sentiti comunico due cose e poi chiudiamo questo argomento uno più tardi è finita la diretta ho una diretta su una radio milanese che mi vuole intervistare per questa mia attività investigativa e poi mangio una cosa veloce e se riesco vi metto sei minuti di filmato di cosa è successo ieri mattina io ho messo un minuto perché per farlo stare su Instagram devo stare nel minuto questo Instagram l'ha trasferito su Facebook stasera metterò altri cinque minuti quindi sei minuti avrei una ventina di minuti ne ho tolti circa 14 dove riprendevo delle facce di persone e non mi pare corretto dove riprendevo magari i marchi del supermercato e quindi cerco di mettere le immagini più neutre possibili che però fanno vedere magari un'attività se riesco perché devo scaricare un file devo vedere però voi fra un'ora guardate sul mio profilo è probabile che ci sia la cosa divertente potrebbe essere quella di vederlo anche solo per il fatto che in uno di questi supermercati mi è capitato di essere clienti davanti ad Alfonso Ballerino e quindi l'amico Alfonso ha iniziato a raccontare alcune cose mentre io riprendevo invece il cassiere che mi faceva il conto e a cui volevo far passare la birra che invece poi giustamente mi ha fermato e boh domani mattina invece alle 10.25 sarò su mattino 5 anche mattino 5 mi ha chiamato come mi ha chiamato Magalli come mi hanno chiamato altre trasmissioni televisive e boh quindi alle 10.25 se siete a casa qualcuno a piacere sentirà il sindaco di Asti situazione orti lo abbiamo detto ieri oggi avrei dovuto cercare di informarmi sapete che dalla fine della scorsa settimana è arrivata una fec fake di maggiore spiegazione sulla situazione degli orti e da una parte si è detto gli spostamenti anche in comuni diversi da quello di residenza per coltivare orti e terreni privati sono consentiti senza incorrere nelle sanzioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio per l'emergenza coronavirus questa è un'uscita ulteriore oggi rafforzativa di quella fake che la riprende nello stesso tempo si va e si specifica che la coltivazione del terreno uso agricolo è un'attività diretta alla produzione per autoconsumo rientra in un certo codice che quindi viene consentito e quindi sono consentiti a patto che il soggetto come avevo detto presenti il certificato di proprietà del terreno dica qual è il percorso che fa per andarlo a coltivare che deve essere il più breve più corto possibile a fianco però c'è un'altra fake che spiega invece però che non si può andare a coltivare un terreno o l'orto che è nella seconda abitazione e magari ci sono astigiani che hanno la casa in campagna con vicino l'orto e questo sembrerebbe non essere concesso si può andare alla seconda casa solo in situazioni di emergenza situazioni che sono sopravenute ed imprevedibili ad esempio un crollo o qualche cosa per cui per forza devo andare a vedere che cosa è successo il suggerimento che vi do io e quindi c'è anche brutto tempo utilizzare questi giorni per rimanere ancora a casa e non rischiare di fronte a una cosa che non vedo ancora molto chiara se sono in più vi dico che per noi del comune di Asti si apre una seconda problematica che è quella relativa agli orti comunali pensate che noi abbiamo 307 orti per anziani 32 in località Carretti in San Quirco 115 un appezzamento 48 un altro lungo Borbore 50 torretta 62 a cui si aggiungono 37 in via Ungaretti in Praia che sono pezzi di terra che attraverso un bando sono stati dati a una serie di nostri concittadini per coltivarli giustamente e dove però rispetto a dire ho il mio pezzo di terra e ci sono solo io che coltivo ci mette nella situazione di dover prendere tutta una serie di misure al fine di non portare degli assembramenti quindi indipendentemente da quello che può succedere sui terreni andare a coltivare il proprio e sono da solo quello che vi posso dire è che per questa settimana di sicuro gli orti comunali non li apriamo ancora ma utilizzeremo questa settimana per verificare in che modo quando sarà possibile aprirli e sicuramente arriverà il momento di aprirli riusciremo ad aprirli garantendo la sicurezza di quelle persone facendo in modo che questi non si assembrino e non si incontrino gli uffici stanno provando a immaginare dei turni alcuni un giorno piuttosto che un altro piuttosto che delle altre soluzioni useremo questi giorni per eventualmente dirlo quindi il suggerimento è orti per anziani comunali sono ancora chiusi gli altri orti io riterrei che se non vi muovete di casa è meglio e alla luce di un po' di incertezza che c'è su queste fake che escono proprio sicuri di non incorrere in problemi se vi muoverete io non lo sarei allora mentre invece nei giorni scorsi abbiamo chiesto alla prefettura un parere per cercare di capire cosa succede il 25 il primo maggio noi avremmo avuto voglia di chiudere tutte le attività come avevamo fatto Pasqua Pasquetta ci siamo confrontati in via informale con la prefettura per avere una loro posizione per cercare di evitare che si arrivasse a quello che è capitato a Pasqua dalla prefettura ci è stato detto di attendere a emettere una nostra ordinanza ci hanno spiegato che la nostra ordinanza avrebbe di nuovo creato problemi e compagnia bella e che nello stesso tempo molto probabilmente sarebbe uscita la regione sull'argomento abbiamo quindi sentito la regione abbiamo effettivamente verificato che stavano lavorando in quella direzione oggi comunico che il presidente Cirio ha firmato un'ordinanza che prevede la chiusura di tutti gli esercizi commerciali nelle giornate del 25 aprile primo maggio ad eccezione di farmacie e parafarmacie di tutti gli esercizi dedicati alla vendita esclusiva di prodotti sanitari aperte anche edicole e benzinai restano consentite inoltre questo lo sappiamo fin dall'inizio le consegne a domicilio per tutti i settori merceologici eseguite nel rispetto delle regole di sicurezza e sanitarie naturalmente quindi 25 aprile primo maggio festa in tutti i sensi attività chiuse ma già che parliamo del 25 aprile faccio presente che sta arrivando questa importante ricorrenza questa festa nazionale il 25 aprile però quest'anno festa della liberazione arriva in uno scenario che è eccezionale con gli astigiani io parlo per gli astigiani ma così in tutto il paese ancora nel pieno della quarantena dell'emergenza del covid-19 il prefetto ci ha quindi segnalato al sindaco ai sindaci al presidente della provincia quello che arriva dalla presidenza del consiglio dei ministri e quindi la possibilità del consueto imbandieramento agli edifici pubblici con le bandiere italiane e europee però in ragione dei provvedimenti restrittivi dell'emergenza sanitaria per la diffusione del coronavirus covid-19 quest'anno non si terrà la tradizionale deposizione all'altare della patria da parte del presidente della repubblica né sono previste cerimonie coordinate dai prefetti quindi eventuali iniziative di deposizione di corone presso i monumenti e caduti da parte di istituzioni territoriali o locali dovranno prevedere la presenza della sola autorità deponente evitando il coinvolgimento di altre autorità o formazioni militari o comunque escludendo qualsiasi forma di assembramento della popolazione io ho quindi aderito a un'iniziativa della provincia di Asti che è il 25 aprile a distanza ma insieme quindi tutti i sindaci della provincia 118 alle ore 11 del giorno 25 si ritroveranno in determinati luoghi del loro comune e reciteranno una poesia la poesia è una sera di sole e deporranno un omaggio floreale quindi il 25 aprile sarà festeggiato quest'anno in questo modo ci tenevo a farvelo presente questa è la nota della prefettura dove ci si dice quanto ho cercato di dirvi con altre parole relativamente a una notizia che riguarda il mondo del turismo uno di quelli settori dove stavamo spingendo di più con la TL che si è unita con quella di Alba con una regione che voleva puntare il turismo importantissimo ormai produce una fetta importante del nostro PIL ebbene in questo momento in cui il turismo è un po' smarrito tra lockdown regole per il distanziamento sociale mercati internazionali per un certo periodo chiusi servono informazioni fresche e affidabili su cosa succede e su cosa succederà da qui a fine anno soprattutto gli operatori sono smarriti e si chiedono che cosa fare quando potremo ripartire ci sarà un futuro quindi la TL la ringrazio di avermi dato la notizia di modo che la possa dare a tutti gli interessati organizza una serie di appuntamenti online per discutere di dove va il mondo del turismo basta collegarsi da domani ogni martedì e venerdì alle 11 su www.foodwinetourismforum.it un po' complicato facciamo che per semplificarla vi collegate se volete alla pagina facebook della TL Langa e Monferrato Roero e potete quindi assistere a queste cose che possono essere interessanti prima di andare avanti con le altre notizie consentitemi di raccontarvi in modo veloce una storia che è quella della matita perché secondo me ci sono tanti passaggi che possono essere recepiti in questo momento un bambino guarda la nonna scrivere gli chiede ma stai scrivendo su di me parli bene di me e la nonna dice sì sto scrivendo una storia su di te ma non sono tanto importanti le parole ma la matita che sto usando mi piacerebbe che tu crescendo fossi come lei e il bambino la guarda ma sembra una matita come tutte le altre e in realtà la nonna gli dice ci sono cinque qualità di questa matita che se tu avrai faranno di te un uomo in pace con il mondo e quindi la prima qualità è che non devi mai dimenticare che quando scrivi la mano ti viene guidata da qualcuno se si è credente si pensa a Dio e se no pensate a qualche cos'altro io personalmente immagino che questa mano possa ogni tanto e mi sento più sicuro a saperlo che sia portata avanti da lui la seconda qualità è che quando invece arrivi un certo momento devi usare il temperino e questo fa sì che la matita soffra un poco ma alla fine sarà più affilata pertanto sappi che un po' di dolore ti renderà una persona migliore la terza qualità della matita è che attraverso una gomma consente di cancellare gli sbagli e quindi correggere qualche cosa che abbiamo fatto non è necessariamente un male anzi ci aiuta a rimetterci sulla retta via un altro una quarta qualità della matita è quella che non è importante il legno esteriore ma la grafite che c'è all'interno e quindi la matita ci insegna che dobbiamo guardare ogni tanto quello che succede dentro di noi l'ultima di queste qualità è che la matita lascia sempre un segno e quindi ugualmente sappi che tutto ciò che farai gli dice la nonna al bambino lascerà delle tracce cerca di essere conscio di ogni singola azione allora io vi ho raccontato questa storia perché ognuno di queste cinque situazioni secondo me ognuno di noi se ci pensa bene in questi giorni la può vivere qualsiasi cosa che fanno la faremo lascerà un segno sono giorni che dobbiamo pensare eventualmente a qualche cosa che non abbiamo fatto come avremmo potuto nella vita e abbiamo la possibilità di correggerci migliorandoci stiamo patendo ognuno di noi patisce un po' di più o un po' di meno e quindi consideriamolo come il temperino che in questo momento ci fa soffrire ma avere poi la punta nuova e consentirci di andare avanti meglio è un momento dalla storia molti mi chiedono di continuare con queste storie so che altri invece non le sopportano però hanno soltanto eventualmente da non ascoltarci allora tornando invece a ultime due notizie veloci poi diamo i dati che ho già da un po' il ringraziamento che faccio questa sera come attività è a chi fa assistenza ai clienti soprattutto a quelle importanti aziende che erogano servizi ad esempio in questo momento abbiamo molti nostri concittadini che lavorano alla condata e che lavorano pereni e pereni rispondono al telefono e danno delle risposte ai clienti della stessa mi dicono alcuni che in questo momento essere lì rispondere a quei telefoni è un po' come essere al telefono amico si prendono telefonate disperate gente che è arrabbiata già per le altre cose che si scarica il tutto lì dentro e molti anche maleducati lo vediamo c'è gente anche che scrive durante la mia diretta con toni magari meno piacevoli qualcuno non c'è più sappiate che dall'inizio delle mie dirette ci sono una ventina di persone che io ho bloccato dieci perché neanche erano astigiani si collegavano qua la sera semplicemente per buttare dati dire delle cose che volevano e che non hanno niente a che fare sul nostro territorio secondo me non erano di servizio e altri che dopo un po' chi un po' più maleducato chi un po' meno chi comunque ci sono una ventina di persone che non ci seguono più per quello non ci seguono su facebook poi loro hanno la possibilità attraverso il mio canale youtube dove nella serata viene messa questa diretta di seguirsi le informazioni semplicemente senza commentarle e facendoci magari perdere del tempo quindi a queste persone che sono lì che stanno facendo il loro lavoro e che danno importanti informazioni va il nostro ringraziamento di questa sera mentre invece le azioni meritevoli che vado a ricordare sono della ditta Hitec Carbone SRL ha donato molte mascherine FFP2 che servono alla nostra polizia municipale al comune una colonna dispenser per il gel igienizzante e il relativo gel noi la sistemeremo a Palazzo Mandela e sarà utilizzata quindi sia dai cittadini che dai dipendenti un ringraziamento per un'attrazione meritevole va a Auto in Due di Piero Giuliano che sta sanificando gli impianti di ventilazione di tutte le auto del comune lo sto facendo gratuitamente per aiutarci ad andare avanti è stato un gesto molto carino dicendo le auto del comune sono tutte comprese quindi anche quelle della polizia municipale poi consentitemi di ringraziare la Sacla azienda storica astigiane che ha donato diversi bancali di suoi prodotti alla mensa sociale e quindi a Dona la Spesa e che grazie anche a questi prodotti assieme agli altri che Dona la Spesa mette insieme con le offerte dei cittadini astigiani ci consentirà di dare tante risposte a tante famiglie che hanno bisogno allora oggi presente il presidente della provincia il prefetto Lasle è partita la cabina di regia di cui vi ho parlato venerdì oggetto le RSA quindi ulteriori attenzioni alle problematiche che vi sono intorno a questo mondo e che molto ci hanno preoccupato nei giorni scorsi e per il quale abbiamo ancora adesso tutti i riflettori accesi oggi parlando con il commissario dell'ASL Messori Ioli mi ha detto che con una incredibile molle di lavoro siamo arrivati a 300 tamponi giorno ieri abbiamo detto vedevo ancora qui i dati 73 positivi in più ieri 76 il giorno prima il sabato noi siamo arrivati rispetto all'inizio con poche decine magari 20 25 ad arrivare a fare 300 tamponi giorno e questi tamponi giorno li facciamo soprattutto in stragrande maggioranza nelle RSA che adesso stanno facendo tambure battende anche i positivi e me l'hanno detto gli amici del SISP si stanno trovando soprattutto quindi nelle RSA poco RSA di tutta la provincia ma mi si dice che solente si trovano magari dei positivi che sono guariti persone che sono state positive che sono alla fase terminale che erano asintomatici meno fra i cittadini e fra questi fra i cittadini che si stanno positivizzando mi diceva il commissario dell'ASL Messori che molti sono parenti di persone che sono positive e che hanno passato del tempo con loro chiusi in casa in quarantena tanto per fare un quadro di dove si stanno andando a trovare questi positivi il quadro sembra quindi sotto controllo non devono far paura i dati degli ultimi due giorni questo 73 e questo 76 sì devono farci fare molta attenzione ci devono dire questa cosa non è finita dobbiamo continuare a comportarci come ci siamo comportati fino qua per non vanificare tutto quello che abbiamo fatto però non c'è da andare fuori o perdere la cognizione visto che non l'abbiamo persa fino adesso non l'abbiamo neanche persa agli inizi quando non si sapeva proprio nulla se vai a cercare i positivi li trovi se anziché 20 tamponi ne vai a fare 300 è molto probabile che trovi molti più positivi abbiamo sempre detto che probabilmente ogni persona positiva sintomatica ce n'erano altre 10 sintomatiche che sono in giro tranquille che sembrano persone che non hanno mai incontrato il virus un cittadino però mi ha fatto e vi dico intanto che oggi i positivi adasti sono passati in tutta la provincia è dato provinciale da 1113 a 1145 quindi 32 positivi in più oggi ci sono purtroppo 4 vittime in più di ieri ieri ho dimenticato di dire che da 116 siamo passati a 119 e quindi 3 vittime in più ieri questa sera dico che da 119 passiamo a 123 alle famiglie delle 3 persone decedute di ieri e alle 4 di questa sera 7 famiglie va la nostra vicinanza e le nostre condoglianze continua il trend in regione di diminuzione di postazioni occupate di terapie intensive un trend che ormai così da 14-15 giorni si liberano di posti in ospedale però ripeto stanno aumentando positivi perché si stanno facendo una serie di tamponi molto di più un cittadino mi ha fatto notare io alcuni giorni fa avevo dato dei dati percentuali in base alla popolazione quindi ho detto hai ragione stasera ci ritorno sopra che non è tanto significativo dare dei numeri e dire siamo a 1145 ce ne sono 32 in più di ieri bisogna vedere questi dati in proporzione alla popolazione allora per capirci Alessandria ha 0,67% di persone positive rispetto alla popolazione il VCO 0,59 la provincia di Vercelli Asti 0,57 la provincia di Novara 0,54 Asti 0,53 Torino 0,45 Biella 0,44 Cuneo 0,35 per renderci conto con le zone un po' più colpite Asti abbiamo detto 0,53% della popolazione Piacenza è a 1,18 Lodi a 1,19 Cremona a 1,53 e quei numeri grossi che abbiamo visto a Bergamo e Brescia sono di due province che sono intorno allo 0,95 La notizia che vi do ancora e poi vado alla conclusione oggi per la prima volta da quando si guardano i numeri a livello nazionale gli attualmente positivi sono calati che cosa vuol dire questo? Cioè che fra i nuovi positivi di un giorno se sottraiamo purtroppo i decessi e meno male i guariti rimaneva un numero di attualmente positivo il numero di ieri di attualmente positivo è diminuito per la prima volta con meno 20 rispetto a ieri quindi vuol dire che oggi la somma dei purtroppo deceduti a livello nazionale e dei guariti è stata superiore rispetto alle nuove persone che si sono positivizzate Alla luce di questi dati vi auguro una buona serata e ci vediamo domani Buonasera a tutti se potete condividete Grazie a tutti